A parte che non andiamo a regalare due sub in giro per Twitch perché oggi addirittura mi hanno rimborsato il viaggio che ho fatto a Milano, quindi sono pieno di soldi ora Quindi regaliamo due sub in giro, dai Cosa ci offre Twitch oggi? Just Chattings Allora, ok, ci sono io Andina, non lo conosco Sta facendo la... il miglior perso... Ah, vabbè, addio cv Grau Staff Attenzione Una streamer, un prete e un sessuolo che entrano in un bar Ok, ho il gattone, mio padre Sicil, oddio, ma lui è un fregno Sicilio con sto qua, con sti qua Chi sono i quattro, scusami, ci sono due Ma è un emo, tipo Ma che hit è, regà? Cosa sta be... cosa stai bevendo? Cosa stai bevendo? Proteine, Manu Proteine in polvere, al cioccolato Non è meglio una birra? Non è meglio una birra? Non ho mai bevuto birra in vita mia, Manu Sono astemio Non ho mai né bevuto né fumato Scusa, non sei in live a questo, scusa Non mi parlare Non mi fido di voi astemio Astemio, non fumo Ma che cazzo di ampio fa? E le proteine Ma che cazzo di problemi hai? Gerato al cioccolato Due Allora, se mi indovina il numero che sto pensando Sto pensando il tre Gift tre sub Indovina che numero sto pensando Che cazzo dici? Da uno a cinque Ah, ma non c'è le sub Non mi che le posso giftar Tanto non l'avrebbe indovinato Anuxo C'è Manuxo in live C'è Manuxo sotto in live Ma è lui Indovina che numero sto pensando Da uno a cinque No, eh Non ne stiamo Porca troia No, no, no Ho paura di queste cose qua Ma noi glielo scrivete ragazzi Dai Non voglio dire nessun numero Da uno a cinquanta Dai dillo No, a cinque ho detto Dai dillo Allora dico il Il sei Il due Sbagliato Sbagliato Mi chiede Plato prom C'era pure scritto in chat Se solo avessi avuto l'accortezza di reggere Probabilmente quando prendevi l'affiliato Avresti avuto tre sub in più Ma ehi Non si può nascere tutti intelligenti Datemi un cavallo lui Qual è un cavallo lui? Il più forte del mondo Ma cos'è? È buffetta con un po' Bro, ma Cosa sto vedendo Lì a destra Manuxo Bro Cosa sto vedendo lì a destra Manuxo Una fantastica Lopanni Più di questo Che cosa si può vedere Lopanni Un Pokemon Ragazzi Come È bellissimo Ma come ti fanno A eccitare I Pokemon No, non mi fanno eccitare Manuxo Non mi fanno eccitare Però Esteticamente è bello Ma io Io ho paura di voi Siete come Zazzone Che si scoperebbe Vaporeon Cioè Don Matteo ci racconta La sua storia Ma lui c'ha gli abbonati Dai lo faccio con lui Ah da 1 a 10 Sto pensando il 6 Indovina il numero Che sto pensando Da 1 a 10 Ma Dai Indovina Indovina il numero Che sto pensando Da 1 a 10 8 Allora 8 Meno 6 Fa 2 Quindi ti becchi 2 sub Perché ci sei andato Mezzo vicino Peccato 2 sub giusto Eh no Eh Se parli più veloce di me Incredibile Come fai Sono partito all'inizio Metal Poi sono passato A tanti altri generi Ho suonato di tutto Ma è un video È un po' cittare Secondo me Oddio Se non entri Sei una cattiva persona Ok entro Ma cosa È senza sub pure lui Regà Abbas Ma prendete il cazzo di affiliato Ma mettetevi a stream a 7 giorni Con 3 dispositivi in casa Che ci avete attivi Porco Dio What Ciao Alessandro Trae Ho appena finito di rivedermi Il nostro video Con le manette Che video Non mi legge Mi inquieta Devo essere sincero 10 euro a chi mi batte Fammi vedere come B La giocata pad Ma sembra quello Che fai gli scherzi Che faceva gli scherzi Con la ragazza Su tiktok Regà No regà È velocissimo Non ci faccio Non più Mi sfonda il buco Però potrei fare una roba Se ti trovo Uno sfidante Ci fai 1v1 E se vinci Ti do 10 sub Ci stai? Vediamo se riesco Tipo a linkare Due streamer di Fortnite Maluzzo Maluzzo Dai Dai accetta Ne prendo Uno a caso ora Come dipende chi è Ma accetta e basta Ma sono 10 sub Oh Va bene Va bene Dai Ok Non mi falle Cosa non ti va? Mi stai laggando un botto Faccio il quad Mezzo smicchio Ma vai a cagare Sempre sta scusa Pure il Marzoni In due secondi È lag È lag Ma che lag Siete dei pipponi Semplicemente Devo andare da un altro Streamer di Fortnite Però che penso Che potrebbe Diciamo farci 1v1 Però con la cam Oddio lui È in maratona lui Dai Bro Vuoi fare 1v1 Con I'm Joda Ho 10 sub Se vinci Ma lo sai che è Manuxo quello vero Bro vuoi fare 1v1 con I'm Joda Se vinci 10 sub Ok Va bene A me va bene Ok Ok bro Ti ho trovato L'avversario Eccolo Ma perché Dai dai Accetta No ragazzi Comunque Come portiamo noi A un altro livello Ste cose Incredibile Ho fatto linkare Due streamer di Fortnite E gli sto a fa 1v1 Con delle sub Ma che cosa Che rimanga tra noi Le sub le do Entrambi Ovviamente A chi vince un pelo di più Apriamo multipob Io ovviamente ti ferò per il più scarso Ragazzi Cioè è inutile dirvelo No non devi tremare bro Se no non va bene Cioè Le regole Ok Allora le regole le dico a lui Best of 5 Quindi Chi arriva a 3 win Vince Non do Devi partire sconfitto Dai bro Oddio è partita Fateci fare Un po' di spettacolo No vabbè Opium Dai un po' di Un po' di riscaldamento Lui si fa le armi Joda è più forte Però gli lagga Fat finger È più scarso Però mi sa che La connessione Mi sa che gli va bene Quindi potrebbe essere Tipo equilibrata Un edit un po' macchinoso Sì Ok sto cercando Di entrare lì nel muro Oddio usa il rampino Non era abolito Nelle regole Ok Bello Oddio stanno sudando eh Ok 1 a 0 Fat finger La tecnica dell'arrampicata Fat finger eh È bravo Perché se non sai buildare Effettivamente c'è senso Eh la pressure La pressure Mi puoi fare il test di Masterchef Joda Dai dai Non ce la posso fare Dai che ce la faccio Come on fat No vecchio Non ce la faccio Non ce la fa più Ovviamente nel building Vedo più fluido Joda Ok si è beccato per un hit Ok stanno fetando Bella 1 a 1 Gli è voluto entrare con il rampino E se l'è presa nel culo Vabbè è uguale È uguale dai Mettici il cuore Non è importante quanto sai buildare È il cuore che conta La cosa che mi hanno insegnato È che devi buildare Prima dell'altro Così l'altro non ti può buildare addosso Ok sono 2 a 1 comunque 2 a 1 per Joda Ti è entrato? Eh però così prende svantaggio eh Eh 3 a 1 3 a 1 ha vinto sì Quindi Applausi a Joda Gli diamo subito il surprise Che erano le 10 sub Però onestamente Allora diamone 9 Perché non ne voglio dare 10 come il vincitore Ne do 9 dai Dai Grazie mille Uno scontro carino Però ovviamente si vedeva che Joda era più preparato Però Vabbè ci sta Ci sta Il bro si sta emozionando? Non ci credo Ah ok 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 Se tu vuole vado Abbiamo il pisano Ti è aumentato di 8 ore il timer No come io ho aumentato di 8 ore il timer Porco dio no Non lo sapevo Cazzo forse non glielo Volevo ringraziarvi per questo show che ci avete dato Grazie ragazzi Grazie a te Toro A te a te bellissimo Ciao ragazzi vi saluto entrambi Grazie mille a tutti e due Molto 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 Fica questa roba la riproverò Maratona è estendibile Un'altra maratona Dai un bacio a chi vuoi tu Oddio Oddio se gioca obbligo verità? Per quante Sub Un bacio a tre Ciao Manux In ritorno ragazzi È tornato Per quante sub un bacio a tre Manux ed è proprio lui Vai 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 Non sono il principe Non sono il principe 20 sub Simpatico è Manux Te voglio un sacco bene Non me vedi Ma te voglio bene davvero No ragazzi Ragazzi ma questo non lo facciamo Abbiamo detto che lo facciamo Mantegniamo una bomba E questo è subito No Ragazzi ma però gratis no E qua è gratis lo stanno a fare Manux Ok ok Dai quanto? Qui si scopa? Lui ci è rimasto malissimo Non vedeva no Vabbè 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 Dici dove cazzo è Dici dove cazzo è Dai Manux Ma che cazzo vuoi tu Alle 3 20 di notte Che cazzo vuoi Dici dove cazzo lo nascondi Lo nascondo il Davidaos? No L'ubboss C'è là in cantina La maratona Mi sono rotto lì Ah l'ubboss L'ubboss sta dormendo Oggi l'abbiamo fatto incazzare Stai attento Sempre in guardia Ma è sbagliato Se vince Sono 10 sub Adesso hai più tempo Per rispondere alle domande Se vince Sono 10 sub Con calma Manux Manux che ti invita Se vinci sono 10 sub Minux quindi te devi impegnare Bill Gates o Steve Jobs Di fondo alla Microsoft Steve Jobs Basket o palla a volo? È più leggera La palla di? Basket Palla a volo Niente 10 sub Ma è un coglione Diamole Diamole per l'impegno comunque 7 Ne diamo 7 Dai Ci posso stare E non gli dare un euro al tuo amico Perché ha sbagliato Prego Prego Bravo esatto Quello che ti stavo dicendo io Non gli dare un euro Facciamo parte Posso andare lì Vediamo se lui vince Ah io vincerei bro Vabbè andiamo dai Sono pronto ragazzi Dai forza Sei pronto? Sì ragazzi Io ve lo dico Secondo me non vinco Però ci provo 21 domande Il tuo monte premio È di 183 mila euro Ci posso stare 150 secondi Mi devi dare la risposta Errata Ok Umbria o Marche Dov'è la cascata delle Marche? Ok Umbria Ok non la sapevo Marche È così o non è così? Sui francoballi inglesi C'è scritto England Non è così Garbine Mugurusa O Venus Williams Chi ha vinto il torneo Di Wimbledon Ma palestamente Mugurusa Porca madonna Marche Galileo Galilei O Niccolo Copernico Chi fu l'astronomo Che per primo Dichiarò che la terra Copernico Porco Dio Non era veramente Marche Locatore O conduttore Chi dà in affitto la casa? Locatore Conduttore Porco Dio Hanno suggerito Mal in chat Porco Dio Vabbè ragazzi Buono dai Dai buono buono Grazie per aver giocato Però purtroppo Torniamo in casa con un calcio di Bonolis nel culo Vabbè Io l'apprezzo Bonolis Mi sta simpatico Vabbè è stato un piacere ragazzi Un onore anche Poter partecipare a questo gioco Grazie mille Un bacio Ciao ragazzi Almeno Ci ho provato E dell'importante ragazzi nella vita Non è perdere Questa sconfitta Mi farà crescere per le prossime volte Capito? Cioè è importante Fare esperienza Lascia like e lascia un commento Commento Se no ti arriva un destro sotto il mento Reactions e gaming Puoi trovare di tutto Non troverai mai un edit brutto Grazie a tutti Grazie a tutti.